Questo è il sale rosa dell'Himalaya. Può sembrare bello, ma un pizzico di questo sale costa moltissimo. 100 grammi di sale rosa dell'Himalaya valgono anche 20 volte il prezzo del sale bianco da tavola. Allora perché è così costoso? Si è creato un culto intorno al sale rosa dell'Himalaya. I suoi sostenitori affermano che aiuta con tutto. A perdere peso, a rallentare l'invecchiamento, a regolare il sonno e persino ad aumentare la libido. Il sale rosa può costare 10 dollari al chilo, i prodotti realizzati con esso possono costare anche di più. Ma qual è effettivamente la differenza tra i tipi di sale? E da dove vengono tutte queste affermazioni? Per avere un'idea di ciò che rende il sale rosa dell'Himalaya diverso, dobbiamo considerare i vari tipi di sale presenti nel settore. Il sale da cucina viene spesso prodotto perforando i fondali marini, pompando l'acqua salata, e poi raffinandola negli impianti di depurazione. I minerali naturali come magnesio o potassio, vengono eliminati. Il sale marino si ottiene facendo evaporare l'acqua di mare usando il sole o i riscaldatori interni. Diversamente dal sale da cucina, non ha sostanze chimiche aggiunte, e i suoi minerali naturali sono intatti. Il sal gemma è diverso. In alcune parti del mondo, sepolti a centinaia di piedi sottoterra, ci sono i resti di mari evaporati. Questo minerale, l'alite, viene raccolto perforando la parete rocciosa, schiacciando il sale e frantumandolo. Il sale rosa si trova solo in pochissimi luoghi, dal fiume Murray in Australia, a Maras in Peru. Ma la disponibilità è tutt'altro che limitata. La maggior parte delle miniere di sale rosa nel mondo si trova in Pakistan, ai piedi dell'Himalaya. La miniera di sale di Kevra in Pakistan produce 350.000 tonnellate all'anno. Quindi il sale rosa è più salutare. Il sale contiene circa 84 minerali diversi, che gli conferiscono il suo colore rosa, ma costituiscono solo il 2% di esso. Il sale di sale di sale in Italia. E mi piace essere l'occhiata di notizie, ma è molto simile nutritionale. I presunti benefici del sale rosa non riguardano solo l'aspetto nutrizionale. Molte persone affermano che esso abbia proprietà curative se inalato, o addirittura se usato come lampada. I can see why trends come about. So, for instance, there's a lot of different homeopathic remedies that can seem very, very appealing, but actually because they're not grounded in evidence, a lot of the time, a small hint of something having a promise can get blown out of proportion, especially when it comes to the media, especially in terms of beautiful looking items. And I think pink salt, of course, is a lot more appealing for a lot of people when you compare Il sale dell'Himalaya non ha proprietà benefiche per la salute, ma viene ancora commercializzato come sale di lusso. Inoltre si prevede che il consumo globale di sale varrà 14,1 miliardi entro il 2020. Quindi, ha un sapore migliore per il suo prezzo. Ciò che ha contribuito alla popolarità del sale rosa è Instagram. È perché Instagram è un plattato di immaginare, quindi se si pensi sulle, è più attraverso di qualcosa che è piacere, naturalmente, o qualcosa che è brillante. È più, io would callo, estetico food. Quindi, guardare come la cosa appare, invece di essere un beneficio. E se stessi guardare i sociali media, è un po' inizia e inizia, in quanto è la più fotografi item, I don't think it will be around forever.